saba di crap pompi fan e benvenuti in questo nuovo video di intanto in thailandia sempre spennato vabbè in questo video volevo parlare per quanto riguarda i pacchetti di promozione per il turismo senior c'è degli over 55 anni già di questo avevo parlato diversi video fa forse il mese scorso ne ho parlato e appunto che il governo ha in progetto di lanciare questi pacchetti per stimolare appunto le persone over 55 a viaggiare persone thailandesi ovviamente quindi fare viaggi interni nel paese e conoscere meglio il loro paese magari gente che durante il periodo di lavoro non sei riuscita mai a prendere una vacanza e over 55 comunque si presuppone che siano più già pensionati insomma che siano persone anziane con figli che che lavorano e che quindi insomma possano godersi un po' ogni tanto qualche vacanza detto questo ragazzi come sempre ricordo che l'articolo il link all'articolo è sotto in descrizione e volevo sempre invitare chi non si fosse iscritto al canale appunto a iscriversi a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornato sui prossimi video inoltre volevo anche invitare a lasciare like sotto questo video e se volete anche a condividerlo sui vostri social che qualcuno potrebbe trovarlo interessante anche se non è over 55 bene detto questo ragazzi prendiamo gli occhiali questi sono quelli tailandesi 100 baht con la mia gradazione anche se comunque recentemente devo avvicinare ulteriormente per vedere bene devo avvicinare ulteriormente gli occhiali vuol dire che sto andando un po' indietro con la vista perché prima ci vedevo anche a questa distanza adesso devo avvicinarmi un po' di più detto questo ragazzi banda le ciance su su andiamo avanti sono arrivati i giardinieri con o è la pulizia della strada non lo so non lo so comunque ho complimenti per il tempismo ragazzi siete fantastici siete fantastici oh non mi lasciano mai solo un momento che gentili andiamo avanti dai su presto che tardi il pacchetto di stimolo per i turisti senior non deve ripetere gli stessi errori identificati in altri programmi sponsorizzati dal governo in quanto il ministero del turismo e dello sport assegnerà all'ufficio provinciale del turismo e dello sport il controllo incrociato di ogni gruppo di tour all'atterraggio cioè quando i turisti atterreranno l'ufficio provinciale del turismo e dello sport farà dei controlli incrociati di questi turisti di cos'è che si preoccupano fondamentalmente cosa si preoccupa il ministero del turismo e dello sport si preoccupa del fatto che con i precedenti pacchetti ci sono state delle truffe praticamente c'era il pacchetto di promozione per il turismo interno e praticamente una percentuale il 30% della vacanza gliela pagava il governo quindi che facevano molti albergatori facevano delle prenotazioni finte si facevano rimborsare il 30% della stanza dopodiché queste prenotazioni sparivano molte prenotazioni avevano anche dei dati veri quindi ovviamente gli albergatori poi spartivano con le persone normali che gli fornivano i dati o li rubavano questi dati c'era da qualche banca dati quindi si facevano dare i dati delle persone normali e li inserivano per le prenotazioni e il governo pagava e io vado e quindi non vogliono che per quanto riguarda il turismo senior si ripetano gli stessi errori che ci sono stati per l'alto turismo nonostante sia stato ritardato in attesa dell'approvazione del governo il ministro del turismo e dello sport Pipat Racciakipracarn ha affermato che il ministero deve preparare il sistema con attenzione per garantire che nessuna frode possa verificarsi nell'ambito del programma imminente quindi quando hanno scoperto che con gli altri programmi ci sono state delle frodi hanno sospeso tutto dice non diamo più finanziamenti e adesso stanno per lanciare questo pacchetto del turismo senior e quindi stanno cercando di controllare bene che non ci possono essere truffe comunque come si dice sono due detti primo che tutto il mondo è paese quindi se le truffe riusciamo a farle in Italia anche in Thailandia riusciranno a farle e secondo fatta la legge trovato l'inganno quindi comunque dovranno sovogliare molto ma molto ma molto bene il governo prevede di distribuire il sussidio di 5.000 baht per un milione di turisti anziani di 55 anni quindi over 55 e oltre che acquistano un pacchetto turistico dopo che il centro per l'amministrazione della situazione economica l'acronimo è CESA cioè CESA ha approvato in linea di principio il meccanismo del programma ha detto che un difetto nel regime di sussidi alberghieri chiamato viaggiamo insieme è emerso quando i dichiaranti hanno cospirato con gli hotel come dicevo io il che ha permesso agli operatori di fabbricare prenotazioni nonostante gli ospiti non avessero effettivamente effettuato il check in né fatto alcun viaggio pertanto noi ci siamo abituati noi abbiamo pazienti finti abbiamo elettori morti quindi noi lo sappiamo che queste cose succedono ma magari in Thailandia non c'erano abituati no? pertanto ogni gruppo di tour che utilizza il pacchetto di incentivi di viaggio per anziani è obbligato a essere controllato all'arrivo e a destinazione quindi chi ha prenotato chi ha prenotato adesso in questo nuovo pacchetto di promozione chi prenota gli anziani cioè gli over 55 che prenotano saranno controllati dall'ufficio preposto del turismo e dello sport ogni chi scende dall'aereo viene controllato tu hai prenotato ok tu hai prenotato vedono le prenotazioni che mancano e dopo non si può dire vedi che queste cose si potrebbero fare anche in italia ma noi non le facciamo però la Thailandia quando decide di fare qualcosa le fa e poi mazzolia e quindi questo è un punto a vantaggio della Thailandia 1 a 0 per la Thailandia rispetto all'Italia che potrebbe essere in un aeroporto o in un altro punto di incontro se viaggia in autobus quindi comunque chi arriva deve essere controllato funzionari dell'ufficio provinciale del turismo e dello sport e della polizia turistica verificheranno utenti e operatori per assicurarsi che i viaggi avvengano contribuendo a rafforzare l'economia locale il signor pipat ha affermato che il progetto durerà fino all'aprile del 2021 quindi fino al soncran la stessa scadenza proposta dalla cisa la cesa ha detto che i tour operator hanno convinto il ministero che tre mesi sono un periodo di tempo appropriato per questo progetto ma il governo dovrebbe limitare gli orari dei viaggi solo alla domenica dalla domenica al giovedì per evitare la congestione durante i fine settimana durante i quali gli hotel hanno già ospiti individuali quindi per evitare che appunto gli anziani possano incrociarsi con i giovani diciamo i turisti locali normali e c'è gente che quando non lavora il fine settimana se ne va in vacanza ecco per evitare di per la migliore distribuzione del turismo durante l'arco della settimana i turisti dovrebbero andare dalla domenica al giovedì questi turisti over 50 turisti senior dovrebbero andare dalla domenica al giovedì prima di lanciare questo programma dobbiamo assicurarci che i truffatori non possono utilizzare lo stimolo mentre gli operatori del settore turistico possono beneficiare appieno del sussidio ha detto il signor pipa il ministro il governatore della turismo authority of thailand turismo authority of thailand daie turismo authority of thailand la t e t il signor utasac su pastor ha affermato che si stima che il programma di stimolo da 5 miliardi di bat genererà 18.8 miliardi di bat per il paese e attuirà attutirà attutirà l'impatto per 400 mila lavoratori del settore turistico ragazzi non solo il neurone aggrippato c'è anche la lingua annodata la t e t prevede che almeno 50 mila 100 mila guide turistiche saranno impiegate tramite questo progetto generando un totale di 225 o 450 milioni di bat di entrate per loro quindi a seconda se sono 50 mila o 100 mila guadagneranno 225 milioni o 450 milioni di bat il signor utasac ha affermato che il recente aumento di nuovi casi locali di covi 19 potrebbe turbare il sentimento del turismo ma tutti i pacchetti di stimolo continueranno come previsto e ovviamente giustamente la preoccupazione è adesso incentrato sul discorso di questa nuova pandemia di questa nuova di questo nuovo contagio che potrebbe appunto andare a disturbare pesantemente questo programma però comunque gli incentivi verranno lo stesso erogato e quindi si spera insomma che di risolvere la pandemia questa nuova con questa fase ondata di contagio e di portare avanti il discorso del turismo senior detto questo ragazzi con macrap per avermi seguito fino a questo momento volevo invitarvi se ancora non l'aveste fatto a iscrivervi al canale a cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati sui prossimi video inoltre volevo anche invitarvi se volete a lasciare like come se non ci fossero domani e perché siamo sotto natale ragazzi dobbiamo essere tutti più buoni ma proprio tutti più buoni inoltre volevo anche invitarvi a invitarvi a lasciare like ma scherzo siamo tutti più buoni facciamo ognuno quello che ci pare inoltre volevo appunto invitarvi se volete a condividere questo video sui vostri social che cosa buona e giusta detto questo ragazzi con mamma macrap leo pogamai punì ci vediamo domani ciao ragazzi